Vi servono crediti? FIFA 15 Coin Smile, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione. Sono veloci, affidabili ed economici. Ciao ragazzi, bentornati su Giove HD SPO e benvenuti nel Team of the Year Prediction, TOTI Prediction. Il team dell'anno uscirà a partire dal 12 gennaio. Il 12 gennaio avverrà anche la premiazione del pallone d'oro secondo la FIFA, quindi l'IEA. In questo campo non può farci nulla. Non sono giocatori che sceglie la EA come vale per i giocatori in form oppure per i TOTS, Team of the Season. Quindi, questi sono giocatori scelti direttamente dalla FIFA. Dunque, questo è il mio trio d'attacco per quest'anno, per questo 2014, Team of the Year del 2014. Il primo giocatore è sicuramente per me Cristiano Ronaldo. Ronaldo, che con il Portogallo non ha fatto un granché, con il Real Madrid ha fatto il macello, ha vinto la Champions League e ha vinto la Supercoppa Wave. Quindi, giocatore davvero fortissimo che potrebbe ricevere anche quest'anno il pallone d'oro. E' fortissimo, completissimo. La sua versione SIF è uscita attaccante, è stato davvero pazzesco come giocatore. E' dimostra davvero di essere il più forte al momento, anche superiore a Messi come giocatore, il più forte giocatore al momento. Il prossimo giocatore, naturalmente, la mascotte, lo sponsor, non la mascotte, lo sponsor di FIFA 15 ed è Lionel Messi. Il 95, la sua è la versione Record Breaker. E' arrivato secondo nei mondiali con l'Argentina, ha fatto davvero tante cose per l'Argentina. Il suo Barça non ha vinto la Champions, non ha vinto neanche il campionato. Quindi, Messi, semplicemente perché è Messi il giocatore più forte dopo Ronaldo, ci sta. Secondo me è Messi il secondo giocatore più forte dopo Ronaldo. Ultimo giocatore è Müller. Müller con la Germania ha fatto davvero tanto, infatti ha aiutato a vincere il mondiale. Con il Bayern Monaco ha vinto il titolo, quindi per me è lui il giocatore che merita una versione Team of the Year. Dunque ragazzi, questo è il mio trio d'attacco, Ronaldo, Messi e Müller. Se volete vedere il Team of the Year completo, la mia prediction completa, il mio team completo, lasciate un bel like, un bel pollice all'insù, che è più bello, il pollice all'insù. E dunque, ricordo che il Toti inizierà ad uscire dal 12, uscirà ogni due giorni e mi sa sabato e domenica uscirà la squadra completa. Quindi, uscirà ogni due giorni partendo dal portiere e dai difensori, poi si passerà al centro campo e poi l'attacco. E poi uscirà completo, tutto completo. Dunque ragazzi, se avete domande da dirmi su questa mia prediction, se avete domande da dirmi su questo Toti, su cosa sia, nello specifico, potrei rispondere, mi rispondo nei commenti. Dunque ragazzi, mettete un bel mi piace, un bel pollice all'insù e alla prossima. Ciao ragazzi!